Ci troviamo nel quartiere del Giglio a Montevarchi, alle mie spalle la chiesa che sta dando un grande supporto alle persone che oltre a difficoltà della pandemia vivono anche situazioni di povertà. Siamo qui per la notizia di queste due bambine che sarebbero rimaste sole perché la madre purtroppo è rimasta infettata dal Covid-19 e la nonna è addirittura morta per via di questa grave infezione. Una notizia che ha avuto diversi sviluppi e noi ce li facciamo raccontare dal sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai. Hanno vissuto con una vicinanza anche se a distanza tramite Skype di tante persone che li vogliono bene, quindi anche i compagni di scuola hanno fatto lezioni a distanza, ci sono stati tanti loro conoscenti e tanti volontari che sono stati fisicamente nel giardino della loro casa e con loro hanno riso e scherzato a distanza dal vetro proprio per cercare di mantenerle sempre occupate e non farle mai sentire sole. Sono state accudite per i passi naturalmente dall'esterno e hanno cercato di fare in modo che nella normalità della situazione non si sentissero mai sole o impaurite. I bambini sono magici a volte, stanno reagendo bene nonostante la complicazione che si è venuta a creare. Purtroppo la madre non sta migliorando e allora visto che si dovrà approsarsi la sua decidenza in ospedale la madre ha dato l'autorizzazione a fare in modo che sia una parente che sia resa disponibile ad ospitare le bambine nonostante la quarantena perché ricordiamo le bambine devono continuare a arrivare al quattro dicesimo giorno. E' stato fatto il tampone un paio di giorni fa e ancora dobbiamo aspettare il risponso. Quindi questa parente si metterà in quarantena però almeno sarà fisicamente nella stessa abitazione delle bambine. Naturalmente tutto è stato fatto in piena sinergia con la volontà della madre che giustamente ha deciso cosa fosse meglio in questo difficile momento per le figlie. Poi il servizio sociale, l'amministrazione e tutto lo staff preposto ha cercato di rispettare al massimo le volontà della madre. Le posso fare una domanda su una giornalista? No, sì, è sempre su quella notizia infondata. Ma lei è Don Mauro? Molto polemico Don Mauro, il parroco della Chiesa del Giglio, sul fatto che questa notizia sia uscita e come sia uscita. Ovviamente una forma di protezione che tutti noi comprendiamo sta di fatto che al nostro microfono, alla richiesta di spiegazioni, risponde così. Se non te lo chiedevo. Non lo so. Mi occupo dei poveri e ci occupiamo di queste cose, di questa abbondanza di beni di regalo.